Questo video riguarda i migliori 3 TV OLED. Il vincitore della qualità nel nostro TV OLED va all'LG OLED ITINQ. L'intelligenza artificiale proietta gli LG OLED TV in una dimensione di intrattenimento. Grazie al riconoscimento vocale, potrai controllare in maniera semplice ed intuitiva il tuo TV, cercare contenuti e trovare informazioni. Basta chiedere. I4K Cinema HDR di LG riproduce fedelmente le immagini così come sono state pensate dai registi, per vivere un'esperienza veramente cinematografica. Compatibile con i più avanzati formati HDR Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, così come HDR10 Pro, HLG Pro e HDR Effect. Solo il sistema audio Dolby Atmos diffondendo il suono a 360 gradi in ogni direzione, permette di sentirsi veramente immersi nel cuore dell'azione. Un suono chiaro, ricco e profondo in tutte le sue sfumature. Pura emozione che risveglierà i tuoi sensi. Chiedi al tuo TV di spegnersi in automatico quando desideri per non dimenticarti mai il TV acceso anche quando sei indaffarato. Vuoi sapere com'è il tempo nella tua meta di viaggio? Il TV ti fornirà le previsioni meteo complete per essere subito pronto a partire. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il LG OLED 55A. Il TV LG integra lo standard DVB-T2H e VC Main 10 compatibile con il prossimo cambio di standard del digitale terrestre. La tecnologia OLED ti offre milioni di pixel auto-illuminanti in grado di riprodurre neri profondi e colori ricchi per regalarti un'incredibile esperienza di visione in 4K. Grazie al potente processore di ultima generazione e all'AI, LG OLED TV ottimizza automaticamente immagini e audio per permetterti di vedere qualsiasi cosa in modo spettacolare. Scegli il tuo assistente vocale preferito e gestisci il televisore con la tua voce grazie a una schermata home completamente rinnovata per offrirti ancora più controllo e comodità. Scopri immagini e suoni da vero cinema con le tecnologie Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e Filmmaker Mode, per goderti a pieno ogni tipo di contenuto. Accedi a Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, LG Channels e tanti altri, scegli tra i film più recenti, le serie TV, i documentari e gli eventi sportivi in diretta, tutto in un unico posto. I TV OLED LG ridefiniscono gli standard dei televisori, il loro profilo incredibilmente sottile e raffinato renderà il tuo salotto simile a un museo di arte moderna. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel TV OLED è il Sony Bravia OLED K55A. Il potente processore di questo TV OLED 4K riproduce immagini OLED spettacolari e perfettamente sincronizzate con il suono, il tutto accompagnato dallo splendido design One Slate. X1 Ultimate analizza in maniera precisa i dati di immagine per valorizzare al meglio il contrasto di OLED, con neri puri, picchi luminosi e immagini davvero realistiche. Ammira i colori realistici, scopri i dettagli in penombra e nei punti luminosi. Con Pixel Contrast Booster, nelle aree più chiare colori e contrasti vengono ottimizzati per offrire scene più profonde, ricche di tonalità e ombre realistiche, texture sottili e contrasto con nero assoluto firmato OLED. Il colore degli oggetti viene analizzato e il contrasto regolato per rimasterizzarli singolarmente. Con X1 Ultimate e 4K X Reality Pro il contenuto può essere convertito in una fedele risoluzione 4K. Ampliando lo spettro cromatico, Triluminos riproduce più colori in modo più realistico che mai. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.